Addio alle doppie multe, forse. L'amministrazione comunale è al lavoro per trovare una soluzione all'annosa questione della duplice sanzione che viene elevata a chi parcheggia irregolarmente nelle strisce blu in città. E la tempistica non è casuale. Dopo l'approvazione ieri l'altro in Consiglio Comunale del nuovo quadro economico-finanziario per la realizzazione del parcheggio interrato in piazza Cittadella, ora la Giunta Tarasconi affronta questa spinosa partita. L'interlocutore è infatti lo stesso, Global Parking Solution, GPS, società concessionaria della costruzione del maxiposteggio, nonché della gestione della sosta a pagamento in tutte le aree urbane di Piacenza. Per rimuovere la doppia multa, obiettivo condiviso da centrosinistra e centrodestra, sul tavolo c'è già un'ipotesi, frutto di un confronto tecnico tra l'amministrazione comunale e GPS, una strada che sarebbe ritenuta percorribile sia dall'ente pubblico che dalla ditta privata. Adesso si starebbe cercando di approfondirla e perfezionarla. In sintesi, l'idea valutata dagli interlocutori istituzionali e maggiormente accreditata nei corridoi di Palazzo Mercanti sarebbe di mantenere in vigore un'unica sanzione, quella prevista dal Codice della Strada, destinando la somma riscossa in parte alle casse comunali e in parte alla società privata. In questo modo GPS rinuncerebbe all'introito diretto della seconda multa, che oggi gli automobilisti pagano direttamente all'azienda e riceverebbe una sorta di compensazione economica attraverso una sola sanzione. Va infatti ricordato che dal 2014, per scelta dell'allora aggiunta dosi allo scopo di intensificare la lotta all'evasione tariffaria, chi sosta negli stagli a pagamento, oltre alla multa prevista dal Codice della Strada, di 42 o 25 euro, riceve un ulteriore penale che spetta in parte all'affidatario, inizialmente a Pcoa, poi Piacenza Parcheggi, oggi GPS.